Gian Paolo Galli, economista, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno. Dopo questa impennata di casi Covid abbiamo visto anche nuove misure introdotte dal governo Conte. A questo punto rimangono accurati i dati e le stime della Nadev che sono estremamente importanti anche per gli investitori? Ma in qualche modo questi provvedimenti hanno preso un pochettino gli italiani di sorpresa. Si vedeva il peggioramento nei giorni scorsi, il peggioramento della situazione, ma non ci si immaginava che ci sarebbe stato un provvedimento così drastico e che il peggioramento fosse valutato come tanto grave. Per cui ho l'impressione che più che i provvedimenti, il coprifuoco, la notte eccetera, quello che farà effetto è la paura. La gente rimarrà di più in casa, peraltro è invitata a rimanere in casa e quindi temo che la previsione anche per il 2020 potrebbe essere peggiore del meno 9% proiettato dal governo e diventa molto difficile pensare al più 6% del 2021 che tra l'altro sconta un più 10% nella Nadev, nel documento programmatico di bilancio, un più 6% di investitori che francamente sono un po' difficili da vedere perché sono imprese molto più importanti, un più 9% di export che è un tasso di incremento maggiore di quello che il Fondo Monetario prevede per il World Trade, il commercio mondiale che è 8%. Tutto questo sembra un pochino difficile alla luce di questa nuova situazione, ma per noi riguardiamo gli altri paesi europei almeno. Assolutamente sì, infatti quanto severe saranno le ripercussioni soprattutto dopo le nuove misure, da oggi parte il coprifuoco in Lombardia dalle 23 alle 5 del mattino, quindi sicuramente ci sarà un impatto importante soprattutto per quanto riguarda il settore dei servizi, quindi lei ha qualche stima da darci? Ma adesso io non ho rifatto i conti alla luce del nuovo scenario e francamente mi sembra molto difficile farlo adesso, il Fondo Monetario aveva uno scenario diciamo più pessimista, però quanto essere più pessimisti al momento è molto difficile, certo che se dovessimo arrivare a un nuovo lockdown avremo una recessione anche l'anno prossimo. Io spero che, d'altronde diciamo le affermazioni che sono state fatte in questi giorni da esponenti di primo piano del governo sono stiamo facendo di tutto per evitare il lockdown, quindi questo vuol dire che il lockdown è molto vicino, che rischiamo di arrivare lì e se facciamo un altro lockdown per forza che arriviamo ad una recessione, non esportiamo più, non produciamo più reddito, si deve fermare gran parte dei servizi e dell'industria manifatturiera. Spero che questo non succeda, ma certamente è una possibilità da mettere in conto. Come spiega invece il rally soprattutto del mercato obbligazionario italiano, in questo momento il decenale rende lo 0,79, tra l'altro è stato lanciato un nuovo BTP, benchmark 30 anni, in questo momento gli ordini sono oltre 90 miliardi di euro. Come mai questa fiducia degli investitori nell'Italia? Guardi, io questo credo che sia fondamentalmente dovuto al fatto che l'Europa, in particolare la Francia e la Germania, con il Recovery Fund e tutto il programma Next Generation EU, hanno fatto un'enorme scommessa, in particolare sull'Italia. Tutto questo indebitamento europeo ha come finalità anche la Spagna, ma soprattutto l'Italia. La scommessa è che ci esponiamo nei confronti dell'Italia, anche come creditori, perché l'Europa a questo punto è creditrice. Consentiamo anche alla BCE di esporsi moltissimo nei confronti dell'Italia, al di là di quelle che sono le chiavi della capital key. Scommettiamo che l'Italia riuscirà a rimettersi in carreggiata, il che significa ridurre il debito quando la pandemia è finita. Vorrei parlare di un altro argomento molto discusso in Italia, e ovviamente mi riferisco al MES, abbiamo un governo abbastanza spaccato quando si tratta del MES. A questo punto, con questi rendimenti del decenale, vale la pena usare il MES? Insomma, quando abbiamo cominciato a parlarne, cioè marzo, aprile, maggio, allora valeva molto la pena perché i risparmi erano nell'ordine di 500 milioni l'anno. Adesso siamo su livelli di risparmio sicuramente molto più bassi, però credo che lo stesso ne valga la pena, potranno essere 200-300 milioni di risparmio di interessi, secondo me non sono da buttare via. L'altra cosa che non è da buttare via è che il MES è un investitore stabile, cioè se ci succede una crisi non è che buttano i titoli sul mercato, quindi sarebbe un altro strumento dell'Europa per stabilizzare l'Italia, assieme al Recovery Fund, il Shure, i fondi Bay e gli interventi della TCE, che nel complesso coprono circa il 50% del fabbisogno di ricorso al mercato dell'Italia quest'anno. Quindi è una cosa enorme, in ogni caso. Quindi secondo lei il mancato utilizzo del MES quest'estate, quando ovviamente tutti i virologi prevedevano una seconda ondata di Covid, a partire da settembre è un'occasione sprecata, perché a questo punto potevamo avere più ecco una sanità, un sistema sanitario più rafforzato e non solo, soprattutto più posti, letto, Covid, in modo tale da evitare un secondo lockdown, che a questo punto non sembra ecco un'idea proprio impossibile. Questo è certo, avremmo potuto rafforzare la sanità, avremmo potuto risolvere il problema che è drammatico del trasporto pubblico locale, gli autobus, le metropolitane strapiene, eccetera, che evidentemente sono fattori di contagio, e poi allora avremmo potuto risparmiare un bel po' di interessi, che comunque abbiamo pagato, ci siamo indebitati allora a tassi di interesse, notevolmente più alti di quelli che ci sono adesso. Lei ha menzionato il recovery fund, sotto questo punto di vista lei è fiduciosa dell'arrivo dei fondi, ovviamente dei prestiti, dalla Unione Europea, con un timing abbastanza sufficiente. Ma io credo che i problemi con il Parlamento Europeo, con i paesi frugali, con i paesi di Visegrad, non sono problemi seri, non devono essere sottovalutati, soprattutto i problemi dei paesi di Visegrad, i quali dicono ma perché dovevano dare tutti questi soldi all'Italia quando noi siamo molto più poveri dell'Italia. Questo è un argomento molto serio, a fronte del quale ci sono argomenti drammaticamente delicati che riguardano la Polonia e l'Ungheria, ma con le libertà e le garanzie costituzionali. Ma nel complesso io credo che la questione si risolverà con un onorevole compromesso e che questi soldi arriveranno. La vera cosa complicata è come l'Italia sarà in grado di spendere, perché fino adesso non ha dimostrato di saper spendere bene i soldi europei e neanche quelli italiani che ha da grado degli investimenti. Ecco, invece abbiamo visto i bond sure che tra l'altro ci sono state richieste boom per 233 miliardi di euro. Qual è la sua valutazione di questo passo storico, senz'altro perché solo magari sei mesi fa era impensabile? Ma è molto positivo. L'Europa decide di indebitarsi. Naturalmente per ora questo è un indebitamento, una tantum, però tenete conto che se poi viene rinnovato sul mercato quando scadono i titoli questo diventa quasi, può diventare un debito semipermanente. Una volta che hai un debito devi però anche pensare a istituzioni per gestire un bilancio comune di dimensioni ben più grandi di quelle che abbiamo conosciuto fino adesso 1,1% del PIL e quindi si pongono giustamente la Germania pone un problema di accountability democratica. Dice non vogliamo rinnovare questo debito, fare un debito europeo permanente perché non ci sono le istituzioni democratiche dietro questa cosa qui. Io spero che si possa fare un salto nel senso di dare legittimità democratica a questo debito e a questo bilancio comune. In settimana invece il standard del PUR deciderà il rating su Italia quali sono le sue aspettative e possiamo aspettarci qualche sorpresa? Il mio guess è che verrà per ora riconfermato il rating con Outlook negativo in attesa di vedere che cosa succede fra molto tempo alla fine della pandemia vedere se l'Italia si ritroverà sicuramente con un deficit più alto di quello con cui siamo entrati. Ricordo che nel 2019 avevamo un deficit solo dell'1,6% nel 2019. la Nadef proietta un deficit del 3% nel 2023 che è l'anno in cui si ritorna al livello di reddito del 2019 probabilmente sarà più alto del 3% perché avremmo scoperto che dobbiamo spendere di più per la scuola, per la ricerca, per ovviamente la sanità, eccetera. e quindi la sfida di ridurre i debiti è una sfida particolarmente difficile. Quello avverrà nel momento in cui l'ABC e tutte le banche centrali mondiali ricomincheranno a normalizzare la politica monetaria, quindi aumentare un po' i tassi e lì sarà il momento. Non credo che sia questo venerdì. Secondo lei, parlando della BCE, quando possiamo aspettarci una normalizzazione della politica monetaria perché in questo momento sembra quasi impossibile almeno nel medio termine? Ma guardi, per ora non c'è nessun segno di inflazione, anzi la pandemia ha addirittura generato qualche segnale di riduzione del livello dei prezzi quindi di deflazione. C'è chi dice che l'enorme quantità di liquidità che è stata immessa nel sistema economico da parte delle banche centrali con il cui prima o poi si scaricherà sull'economia e genererà inflazione. La mia impressione è che ci sono buoni motivi per cui questa liquidità in realtà si è trasformata tutta in riserve bancarie quindi è stata ridepositata presso la BCE tramite le banche centrali nazionali e non credo che quindi ci sia questo rischio almeno nel breve termine fino a quando non ci sarà una ripresa molto forte dell'economia che francamente non è in vista. Grazie mille a Gianpaolo Galli economista grazie mille per essere stato con noi e buon pomeriggio. Grazie a voi.